trema, addirittura Zingaretti ha detto qui mi fate fate finire, cosa ha detto Zingaretti? La mia carriera fa una brutta fine sembra che abbia detto sembra eh? A noi non ce lo dice quindi Ecco ma perché? Che cosa è successo? Vogliamo spiegare che diavolo è successo in questo concorso? Perché hanno attinto tutti uomini molto politici, vicini ai politici cioè questo scandalo è uno strutturio non solo per i numeri ma perché molti di questi personaggi sono amici del sindaco, amici del segretario amici del Presidente del Consiglio cioè una maniera di amici dei politici collaboratori, marito e moglie dirigenti, segretari di partito Noi abbiamo scherzato però c'è poco da scherzare purtroppo perché giustamente l'indignazione corre, corre ad allumiere e corre nei corridoi della Pisana da diversi mesi la Pisana è il Consiglio regionale del Lazio e corre perché di questo concorso sottovoce si diceva da parecchio perché a tutto c'è un limite secondo noi questo limite è stato superato è stato superato non soltanto per le carte che per fortuna avete fatto vedere e per cui vi ringrazio ma perché i nomi che avete oscurato sono nomi pesanti Che cosa c'è? Ci può dire qualcosa? Qualche nome? Lei visto che ha fatto una battaglia noi li abbiamo oscurati senza dire i nomi e i cognomi ma è vero che ci sono persone vicine al sindaco per esempio di allumiere? Sì Ma nel senso che È vero è facilmente riscontrabile basta fare una ricerca su Google Ma anche vicini a chi? Al Presidente del Consiglio regionale? Diciamo che andando a fare delle ricerche specifiche noi troviamo molti nomi che sono vicini a molti esponenti di molti partiti principalmente del Partito Democratico Non è che una bella giornata